I lavori per la realizzazione del tanto atteso ponte di legno sul Vomano che permetterà di collegare il comune di Roseto con quello di Pineto sono fermi oramai da mesi. Una situazione che ora si va ulteriormente ad aggravare visto che l'impresa che avrebbe dovuto realizzare l'opera sembrerebbe aver deciso di abbandonare il lavoro. E così il ponte ciclo pedonale rischia di rimanere un'eterna incompiuta. Una situazione su cui la provincia di Tenamo, soggetto attuatore del progetto, sta cercando di trovare una soluzione nell'immediato per non perdere i 2 milioni e 400 mila euro messi in campo dalla regione. Ecco, oramai parliamo solo di problemi attualmente che io ritrovo sulle mie scrivanie. Lì la situazione, se possiamo dirla, sembra sana, ancora più complicata perché la direzione lavori ha mandato delle contestazioni alla ditta che si è giudicata all'appalto perché ci sono delle inadempienze. Pensate che questo ponte doveva essere riconsegnato nella primavera 2019 e anche quest'opera si trova forse a metà oppure a un terzo dell'opera. Ecco, come vedete abbiamo tantissime cose ancora da dover gestire, problemi da 3, 4, 2 anni. Ho sempre la spada, diciamo che è il tempo, perché il tempo è tiranno con i finanziamenti pubblici che hanno delle scadenze e bisogna subito capire settimana prossima, 3 maggio, quali decisioni assumere anche sull'altro ponte ciclopedonale Roseto-Scerne di Pineto. Io non è che mi sottraggo dalle responsabilità e dico la colpa degli altri, non si fanno le opere. Ecco, cercherò, come ho fatto per altre situazioni difficili, di capire quella strada per fare delle opere che sono strategiche per il nostro territorio perché se la provincia si trova indietro, i motivi è che non abbiamo infrastrutture ancora finite, non abbiamo ecoservizi e altro che diremo man mano.